Siamo alla Fox Petrolli di Punta Penna, intorno alle 19.30 si è alzata una nuvola di fumo per lo scoppio di una caldaia a causa della fuoriuscita di olio. Perfortunatamente non ci sono ferite, l'incendio è stato domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco, due squadre di Vasto e altre due di fuori e sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Vasto.